Sapete benissimo anche quanto io ci tenga alla scuola pubblica che penso che sia uno dei pilastri della democrazia del nostro paese, sia proprio l'istituzione su cui si poggia la Repubblica italiana. Il Parlamento in questa fase, come sapete bene, non ha mai chiuso, ha lavorato tantissimo e posso dire e affermare che è stato il Parlamento che sul recovery, quindi sul piano di ripresa e residenza, ha lavorato più di tutti gli altri Parlamenti europei e soprattutto ha lavorato in tutte le fasi. Anche il dibattito che si è aperto sul regno di cittadinanza, io penso che sia uno strumento non solo utilissimo, ma uno strumento che abbia avuto la capacità e ha dimostrato di avere la capacità in un periodo così difficile di aiutare tantissime persone. Posso sul tema giustizia che è tanto dibattuto in questi giorni anche rispetto al lavoro della Commissione, io quello che auspico è un lavoro di tutte le forze politiche, un lavoro che possa trovare un accordo importante e che ci sia un lavoro senza dubbio approfondito in Commissione. Grazie.